Amministratire 2024, che fa il centrodestra in questa fase? Il centrodestra è andato oltre, è andato oltre perché in realtà noi stiamo parlando di una coalizione alternativa all'attuale governo cittadino, quindi un centrodestra allargato ai movimenti civici, a tutti coloro che non condividono questo tipo di attività di amministrazione che c'è, con una convinzione. Una città di 80.000 abitanti non può non avere la politica, una città di 80.000 abitanti non può essere amministrata dal movimentismo, ma per tanti motivi, perché naturalmente il partito ha contatti diretti in tutte le istituzioni. Ebbè, Corigliano Rossano, una città di 78.000 abitanti con un potenziale inespresso, ha necessariamente bisogno di tutte le istituzioni. Ecco perché noi stiamo parlando di partiti allargati e l'obiettivo è quello di creare una coalizione che sia alternativa a questo governo cittadino. Senatore, ovviamente in ogni trattativa ci possono essere, tanto nel centrodestra quanto nel centrosinistra, delle resistenze, degli ostacoli, delle discussioni, visioni e vedute diverse. Nel centrodestra che tipo di resistenza sta riscontrando in questa fase? Allora, le discussioni sono il sale della democrazia, per cui è giusto che ci siano. Al momento non stiamo riscontrando nessun tipo di difficoltà, perché al momento stiamo facendo un discorso. Cerchiamo di capire bene chi siamo, quanti siamo, iniziamo a tracciare delle linee programmatiche sulle quali convergiamo tutti quanti, dopodiché se tutti è un tavolo insieme, ognuno all'interno dei propri partiti proporrà dei nominativi, individueremo il miglior candidato, perché l'obiettivo è quello di andare a governare questa città. Senatore, queste due ex città tendenzialmente hanno marciato a trazione centrodestra, diciamo, non c'è un elettorato che è sempre guardato in una certa direzione, quindi ci si aspetta tanto dal centrodestra. In molti dicono in questa fase il sindaco uscente è già in campagna elettorale, sta facendo, diciamo, delle operazioni che soddisfano il palato, diciamo, in alcuni ambienti, in alcuni settori. Il centrodestra sembra stare fermo. Avete percezione di questa emotività interna al territorio? Ma che il sindaco sia in campagna elettorale è normale, naturale. Che il sindaco però sia in campagna elettorale con le cose spicciole è mortificante, perché in realtà una città non ha bisogno di un sindaco per poter bitumare una strada piuttosto che fare dell'altro. Il sindaco dovrebbe dire, nella prossima campagna elettorale, qual è il segnale tangibile che ha lasciato in questo territorio dopo cinque anni di amministrazione? Qual è? Si è preoccupato per caso di fare la cittadella amministrativa? Ebbene pure di soldi se ne stanno spendendo. Se solo pensiamo all'estate scorsa un milione e duecentomila euro, all'estate ultima un milione e cinquecentomila euro, ai trasferimenti che lo Stato dà al comune di Corrigiano Rossano intorno a due milioni e mezzo di euro all'anno, in quattro anni sono dieci milioni di euro. Probabilmente la cittadella amministrativa sarebbe potuta realizzare e forse questo sindaco avrebbe lasciato un segnale tangibile. Il centrodestra è stato abbastanza chiaro. Sta lavorando sulla coalizione, lavorerà sul programma, anche se i programmi ne abbiamo già parlato, i quattro o cinque punti che sono quelli che in realtà devono rilanciare il territorio e siamo tutti quanti d'accordo. Per cui noi stiamo lavorando, probabilmente stiamo lavorando in silenzio. Beh, i frutti si vedranno da qui a poco. Vogliono un candidato sindaco, no? Quali i tempi? Ma io leggo dalla stampa, non a cadenza quotidiana, però forse settimanale, che ogni testata giornalistica fa dei nomi, il che significa che ogni partito ha una classe dirigente. Si fanno i nomi in Forza Italia, si fanno i nomi in Fratelli Italia, si fanno i nomi in tutti i partiti. Vuol dire che effettivamente ci sono uomini spendibili, anche perché chi fa politica fa parte di un partito. Ebbè, quando il generale chiama il soldato, il soldato difficilmente può dire non vado in guerra. Senta, ma è stata una provocazione quella sua di qualche tempo fa, secondo cui sarebbe poter essere anche lei il candidato a sindaco? Mi sembra che l'ho appena detto. Qualora il presidente Meloni dovesse chiamarmi e dirmi sarebbe opportuno la tua candidatura a sindaco Corigliano Rosano? Chiaramente io non potrei dire di no, ma non direi assolutamente di no. Per cui penso di essere stato abbastanza chiaro. Il mio nome in lista c'è. Può darsi che non sarò, può darsi che sarò. Lo vedremo da qui a poco. Quindi c'è una lista. C'è una lista e mi pare, ripeto, che noi la leggiamo proprio dai quotidiani, la leggiamo dalla stampa. Non ultimo oggi si fanno il nome di Orazio Lonco, si fa il nome di Giovanni Dimas, si fa il nome di Ernesto Rapani, di Pasquale Nastravagge. Per cui c'è un elenco nutrito di nominativi. Poi ci sono altri nomi che ancora non sono usciti allo scoperto, ma di gente capace, di dirigenti di partito, di professionisti che si sono avvicinati alla politica e sono intenzionati a dare la loro disponibilità. Professionisti quindi possono anche esserci aperture di un candidato a sindaco, espressione della società civile? Ma io ho parlato di professionisti. All'interno dei partiti ci sono i professionisti. Noi all'interno del partito... Non ha chiusura nei confronti della società civile. Ma guarda, un partito che fa riferimento alla società civile vuol dire che ha fallito. Perché non ha senso fare politica in un partito per poi dover ricorrere al momento opportuno che serve il calciatore da far entrare in campo andare a prendere lo straniero. Non ha senso. Ma guarda, un partito che fa riferimento alla società civile. Ma guarda, un partito che fa riferimento alla società civile.